Buongiorno, come avete visto siamo allora arrivati nei giorni previsti, insomma caricando una puntata al giorno, i capitoli sono dieci, siamo arrivati al termine della lettura integrale del processo di Kafka, lettura tutto sommato abbastanza breve, di poco più di otto ore, quindi che si può portare a termine in un tempo normale, in un tempo decente, insomma, che richiede più o meno una settimana di lavoro. Il canale rimane comunque aperto a molte altre possibilità e ho intenzione di continuare la lettura dei racconti di Ghidemo Passan, che vedo piacciono, ma piace anche a me, leggerli. Sono racconti che conciliano anche la brevità, la densità di questi racconti con un bel modo di dire, con un'analisi anche di tanti aspetti della società, in tante situazioni diverse, insomma, da quella della guerra franco-russiana alla situazione un po' dei più deboli, dei miseri, alla situazione, alla complessità dei legami familiari, anche del femminile, dei rapporti amorosi, e anche un po' allo sguardo verso il paesaggio che circonda soprattutto Parisi, ma non solo, ce ne sono anche che riguardano il paesaggio della Corsica. Interessano, ma interessano anche perché sono effettivamente costruiti bene e Mopassan è un autore che vale la pena conoscere, approfondire. Ho visto che ne ho letto più di cento di racconti, lui ne ha scritti circa trecento, c'è ancora spazio per leggerne un po'. Vedremo. E comunque, insomma, è una lettura che si può fare liberamente, nel tempo, e anche magari serve a riempire certi momenti di vuoto. Ma poi ci sono altri racconti che sono già pronti e sono da postare, insomma. Per esempio, ci sono alcuni racconti di Puskin, alcuni racconti di Hetworn, ci sono alcuni racconti che sono scritti in un'epoca, diciamo, così più moderna, e però, diciamo, fanno parte di una serie di racconti che non sono conosciuti da un autore che, insomma, ha scritto delle opere, ma che è abbastanza scomparso, poco conosciuto dall'attenzione all'attenzione internazionale. Credo sia morto intorno agli anni 90. Si tratta di Andrè Kaminsky. Sono racconti per lo più ambientati in Africa, dove lui ha lavorato. E di questi racconti, che avevo già postato in realtà in precedenza, ne posterò altri tre-quattro. In qualche modo ve li raccomando, perché sono intrisi da una grande sensibilità. Alcuni sono anche commoventi, sensibilità per le persone, per gli usi, per il modo di vivere di questa gente che lui descrive, e anche per le singole persone. E fino a qui siamo nel campo del racconto. Poi il canale si vorrebbe muovere anche su grandi opere, cose che difficilmente poi trovate altrove, credo. In realtà vorrebbe proseguire su quella che è la lettura dei Miserabili. Sono già pronte altre puntate, insomma, anche la parte seconda è completata. E ho iniziato la terza. Voi sapete che i Miserabili è un'opera, insomma, di circa 1500 pagine, quindi un'opera enorme, complessa, grandiosa, che quindi, insomma, è anche difficile da affrontare. Ovviamente va affrontata a puntate, perché non c'è modo, è anche difficile poi postarla in un unico video, insomma. I Miserabili vanno avanti. Ho avuto un piccolo incidente di percorso, nel senso che mi è capitato, come quando si maneggia troppo materiale insieme e lo si tiene accumulato perché non si riesce a postarlo di volta in volta, mi è capitato di postare una puntata senza averne corretto una decina di minuti, insomma. No, quindi alcuno ha scritto, ma che cavolo stai facendo? Stai male? Stai impazzito? No, insomma, in realtà, quando non si correzze quello che si è letto, poi succede quello che avete o che alcuni di voi hanno sentito. Quindi ho dovuto togliere quella puntata e l'ho corretta e l'ho ripostata. Insomma, niente di male, soltanto che magari così, no, che ascolta così si fa un'immagine un po' strana, dice, ma chi è questo qua che legge in questo modo? Ma così succede, quando si legge e quando poi si deve maneggiare, come può capitare di fare anche qualche, che so io, qualche errore nello scrivere i titoli, comunque sono cose che si correggono, voi le segnalate, e si correggono, ben vengano le osservazioni quando riguardano queste cose qui. Quindi i miserabili andranno avanti con calma, anche perché man mano che la lettura si fa più lunga, mi sembra che dovrebbe servire più tempo per leggere, per mettersi alla pari con quello che sta succedendo. Poi, non lo so, magari arrivato alla fine, se arriverò, insomma, della lettura di tutto il romanzo, facciamo conto che ne ho letto fino adesso quasi un volume, quasi, non un volume intero, sono due volumi, quindi magari vedrò se riuscirò a riunirlo nelle cinque parti, fare ogni video per ogni parte del romanzo, in modo da, che so io, da fare dei video nella lunghezza di 10-12 ore che contengano una parte, e quindi poi in cinque video condensare tutto il romanzo, che intendo leggere integralmente. Ovviamente anche qua incontro delle difficoltà, perché Vittorio Hugo parla in francese, insomma il suo libro è pieno di termini francesi, di nomi anche edifici, di paesi, di luoghi, per cui chiedo scusa se la lettura non sarà, come dire, molto, se ci saranno delle improprietà nella lettura dei nomi, dei nomi di località, è così, non si può conoscere tutto, io sono da solo e non ho tempo neanche di andarmi a vedere nome per nome, lo so che una cosa professionale sarebbe quella di pronunciare i nomi nella maniera più corretta possibile, i nomi in tutte le lingue, ma quando si legge poi letteratura di tutto il mondo non si può conoscere tutto, insomma, e quindi perdonatemi se ci sarà qualche errore di pronuncia nei nomi francesi, che comunque Hugo usa a profusione, insomma, è pieno di... Detto questo, l'altra opera, che in qualche modo continua un po' alla volta, pian piano, ma che, diciamo, prosegue senza la trama, come dire così, stringente di un romanzo, e che è un'altra opera enorme, una delle opere più lunghe, che io conosca, oltre che anche più complesse, ma non tanto perché sia difficile, perché in realtà quando ci si entra è abbastanza facile, e soprattutto ha un'ironia, cioè ci si diverte a leggere, insomma, perché si capiscono tutti i vizi, un po', della piccola borghesia, i luoghi comuni, di quella che era una realtà, quella austriaca, dei primi del Novecento, le banalità, le presunte grandezze, quando non ci sono, insomma, e mi riferisco a Musil, all'uomo senza qualità, un'opera grandiosa, insomma, grandiosa, e anche questa intendo proseguirla, diciamo, una mezz'oretta ogni tanto, è articolata in paragrafi, poi non è neanche finita, da quel che mi risulta, quindi, insomma, qualche paragrafo alla volta, ogni tanto, io continuerò a postarlo, e ad andare avanti, già basta leggere un paragrafo alla volta, non occorre neanche collegarlo del tutto ai precedenti, insomma, perché quello che si dice in ogni paragrafo è anche sufficiente per essere valutato di per sé, insomma, per essere significante da solo, poi ovviamente si può mettere insieme, magari anche qui ogni tanto, cercherò di riassumere vari capitoli, insomma, non so, in genere faccio video che durano una mezz'ora, venti minuti, mezz'ora, poi li posto, poi arrivato a una certa quantità, magari li sintetizzerò, come ho fatto per la prima parte, in un unico video, in modo che chi vuole, insomma, o se lo scarica, o se lo ascolta, in maniera più continua, insomma, più materiale, da seguire, e da conoscere. Comunque, siccome queste letture sono poi messe in una playlist, chi vuole ascoltarlo con una certa continuità, o magari partire dall'inizio, ancora non ha cominciato, non l'ha fatto, insomma, può sempre inserirsi in questa playlist, e riprendere la lettura da dove vuole, o continuarla da dove vuole, soprattutto dall'inizio, e poi, insomma, riesce a seguirla, fin dove sono arrivato al momento. Anche l'uomo senza qualità, diciamo così, prosegue, non so se lo finirò, il tempo è quello che è, pur dedicando molto tempo a questa cosa. Quindi queste sono le grosse opere che stanno andando avanti, quindi un'altra, anche l'ho cominciata, ed era un po' nei voti, insomma, nei propositi, l'avevo anche dichiarato in un video precedente, di un po' di tempo fa, piaceva leggere l'integrale di Flaubert, dell'ultimo libro che ha scritto Flaubert, forse il più, come dire, il più importante dal punto di vista della storia, della letteratura, anche francese, che è Bouvard Pécouchet. Bouvard Pécouchet, diciamo, è quasi a metà come lettura, anche se non ho ancora postato niente. Aspetto di andare avanti, mi piacerebbe postarlo integralmente, in un solo video, ma tratta anche qua di un libro abbastanza lungo, non lunghissimo, ma comunque supera le dieci ore, credo anche in maniera abbastanza abbondante. Non credo che neanche lo troviate letto da altre parti, insomma, mi riferisco sempre ad Audible o ai grossi distributori di audiolibri, insomma, gli aggregatori di contenuti dove si trovano gli audiolibri. E quindi anche questo è un... fa parte del materiale che è in lavorazione, diciamo così. e poi ogni tanto capita di leggere altre cose varie. Capita anche di fare qualche piccola collaborazione, come sto facendo con Aldo Bova per quello che riguarda l'abbinamento di parola e musica, insomma, partendo però più dalla poesia che non... oppure con altri... con altre persone, insomma, oppure di fare qualche lettura estemporanea di brani di scrittori, scrittori emergenti che magari ti chiedono di leggere qualcosa di quello che hanno fatto. Io, se posso, se mi mandano qualcosa di breve da leggere, lo leggo e anche lo posto nel mio canale, sempre che a loro faccia piacere questa cosa, insomma. Se si può fare qualcosa di utile anche per gli altri, ben venga, insomma. Questo un pochino è il complesso dell'attività del canale che nell'insieme sta andando bene, direi. Insomma, gli iscritti stanno aumentando, il canale si è ripreso un po' da quella che era stata una scossa, nel senso che ho dovuto eliminare tantissimo materiale, quindi gli iscritti erano calati, quindi le visualizzazioni erano precipitate, tutto quello che non era come dire, strettamente mio, ne avevo cercato di mettere anche delle altre cose, è stato eliminato e quindi voglio dire chi si iscrive adesso lo fa perché ama, cioè perché ama, perché insomma è d'accordo con 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 le mie letture, insomma, ascolta volentieri anche la mia voce, quindi non si iscrive magari per ascoltare altro, ma si iscrive perché gradisce anche le mie letture, quindi insomma è diventato un canale più esclusivo da questo punto di vista, insomma, no, materiale si è più concentrato solo sulle mie letture o qualche altra piccola cosa che faccio così, insomma, no, qualche piccolo video di considerazioni, di cose. ovviamente si tratta di un canale che come sapete insomma dura un po' ormai da dieci anni anche se ultimamente insomma si è più strutturato. Stiamo andando verso i 25.000 iscritti che è una buona cosa insomma per un canale di questo tipo insomma che che offre questo tipo di materiale e che come dico si rivolge un po' meno ai giovani più insomma più al più alle persone che sono anche addentro nella lettura dei classici insomma che non cercano soltanto svago nell'altura insomma ma anche cercano diciamo qualcosa di più che riguarda la comprensione del mondo che riguardano il piacere di dello scrivere della scrittura dello stile le varie forme no? letterarie bene questo anche grazie a voi io sto cercando sempre di nei limiti delle mie possibilità di migliorare insomma mi sembra che ultimamente sono riuscito un po' a migliorare la qualità audio che è sempre stato un po' un mio problema spero di riuscire a farlo sempre un po' di più magari senza arrivare a perfezioni perché comunque non potrò insomma non sarò in grado di registrare da studio quindi rumori interferenze se ne sentiranno sempre io cerco di eliminarle ma questo poi comporta altri altri problemi e quindi insomma il compromesso va accettato d'altronde la cosa rimane sempre sul piano dilettantesco non professionale quindi non devo vendere prodotti che devono quindi avere una certa qualità io ve li propongo se poi li gradite vi piacciono li accettate così come sono bene se no pazienza i vostri commenti sono lusinghieri vi ringrazio sembra che si sia creata anche una piccola comunità nel senso che ci sono persone che seguono con regolarità insomma che che commentano anche con regolarità una volta ci si sente anche abbastanza in famiglia poi ogni tanto c'è la percezione anche dalle richieste di amicizia che vengono fatte anche tramite facebook che ci siano persone che comunque magari non si fanno sentire nei commenti ma che ti seguono comunque con regolarità e che magari a volte ti chiedono anche di di conoscerti personalmente vorrebbero fare quattro chiacchiere personalmente con te e questo ovviamente mi fa piacere io sono disponibile insomma no forse si potrebbe fare anche di più non non mi dispiacerebbe insomma se collaborare anche un po' di più sempre nei limiti comunque di una del fatto che io sono sostanzialmente un individualista insomma faccio fatica a muovermi faccio fatica ad avere iniziative però se qualcuno me le propone anche insomma di qualche collaborazione nel senso di altre persone che fanno queste cose ormai vedo che si mettono cioè più persone insomma si dedicano alla lettura insomma e a leggere anche semplicemente di come dire di concordare testi in modo da non leggerli due volte di non leggere lo stesso testo di distribuirsi un po' le letture uno le lega una uno ne lega l'altra e quindi di ampliare la proposta disponibile insomma se altri che fanno queste cose mi contattano e pensano di fare qualcosa insieme l'altra cosa insieme che si potrebbe fare potrebbero essere delle letture diciamo a più voci insomma delle letture dialogate e così qualcuna è stata fatta in passato è stata anche proposta ovviamente per fare delle letture a più voci bisogna poter essere vicini insomma bisogna poter avere bisogna stare sullo stesso luogo e parlare dallo stesso posto quindi il problema logistico diventa un problema importante però anche questo sarebbe bene ogni tanto insomma variare variare un po' insomma rende anche più interessante la cosa mi pare che ci sia un apprezzamento insomma per l'attività che viene fatta che è un'attività che faccio in solitaria insomma il canale bene o male è rimasto da quando è cominciato magari non è cominciato con questo proposito ha cominciato un po' per fare dei video così insomma piccole chiacchierate insomma poi magari ha preso questa via più legata alle letture agli audiolibri diciamo così soltanto negli ultimi anni però insomma ha mantenuto sempre le caratteristiche nel senso che non è stato inglobato in qualcosa di più grande insomma in qualcosa di più commerciale in qualcosa di più cose che vedo spesso un po' snaturano la natura originale di di certi altri canali insomma sono rimasto sempre io sono qua leggo faccio quello che posso e faccio ripeto tutto da solo con i limiti che ci sono quando le cose si fanno da soli e quando bisogna fare tutto e quindi in teoria bisognerebbe avere tante competenze perché il mondo e le esigenze si vanno sempre più come dire articolando sempre più bisogna fare le cose meglio per fare le cose meglio bisogna specializzarsi per specializzarsi diciamo non si può quando si specializza non si perde la competenza generale allora quando invece si cerca di fare tutto attraverso quelle poche cose che si sanno di tutto fa quello che si può insomma il prodotto è così è quello che viene però insomma credo che questo sia un limite ma sia anche un prezzo insomma permette di avere un rapporto più umano più più vero forse tra voi che siete da quella parte e io che sono qui insomma rimango quello quello che ero fondamentalmente insomma come dire anche il rapporto umano vedo che è importante proprio per evitare anche quella quell'anonimato quella quella situazione che si crea quando che abbiamo già commentato insomma che è quella di quando si entra nei grandi aggregatori di contenuti insomma no come entrare nel nel grande magazzino insomma cose che soprattutto alla mia età poi si sentono perché eravamo abituati nella nostra vita precedente negli anni della nostra giovinezza ad avere rapporti più più autentici più personali con le altre persone insomma non c'erano i grandi magazzini come ci sono adesso insomma e quindi nel piccolo negozio insomma i rapporti erano più chiari più definiti più umani più veri insomma ripeto poi i vostri commenti sono favorevoli insomma mi pare che che chi vince la resistenza iniziale dell'ascolto magari di un modo di leggere un po' diverso non so se peggiore migliore insomma per alcuni peggiore per altri migliore ma insomma un modo di di proporre le letture insomma forse diverso dalla media il primo impatto spesso infastidisce spesso non viene non viene gradita non viene compresa e allora c'è un rifiuto quindi chi vince questo rifiuto iniziale insomma poi invece vedo che che arriva e che e che poi continua l'ascolto insomma poi come come tutte le cose facendo una cosa si un po' alla volta si anche si migliora quindi insomma chi ascolta chi arriva ascoltando i video di di qualche anno fa o magari di 7-8 anni fa ovviamente rimane perplesso perché io credo di essere un po' migliorato nel corso del tempo quindi chi ascolta come prima cosa un video di anni fa si fa un'impressione ancora peggiore di quella che è la situazione di adesso ci vorrebbe la pazienza un attimo di 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 conoscere il canale di ascoltare varie letture se no succede come in uno dei commenti recenti che mi sono stati fatti no mi si scrive letta con tono di voce aberrante cosa che un po' quando l'ho letta mi ha sconvolto no perché sconvolto insomma mi ha mi ha posto aberrante per me aberrante ha la parola aberrante ha un significato allora come come si può usare la parola aberrante per definire un tono di voce sarà un tono di voce insolito sarà un tono di voce diverso sarà un tono di voce che a me non piace no che a me uno dice a me non piace questo tono di voce chiudo preferisco leggermi invece che ascoltare queste cose capita tante volte no ma quando uno dice aberrante intendo una deviazione dalla norma che non è semplicemente una deviazione che rientra nei termini delle variabilità normale ma anche rientra in un termine di variabilità patologica insomma no come quando uno dice delirante come quando uno dice abnormale pensiamo non so allora mi veniva in mente no pensiamo a un insegnante che dice ai genitori di un bambino il quale fa un tema e gli dice guardi suo figlio e scrive in maniera aberrante suo figlio ragiona in maniera aberrante per dire che non non ragiona è un po' diverso da come sono tutti gli altri però tutti gli altri sono anche diversi tra loro insomma nella normalità c'è un concetto di che rispetta comunque una certa variabilità nell'ambito del nessuno di noi legge in maniera uguale all'altra nessuno di noi ha un tono di voce anzi tutti ci distinguiamo perché abbiamo un particolare tono di voce poi questo tono di voce può piacere o non piacere ma come si fa a definire aberrante un tono di voce aberrante aberrare vuol dire uscire da errare no vagare da essere diverso da però è implicito nell'uso che è sempre stato fatto di questo termine è implicito a un certo significato come quando dico non sento dire abnorme a me viene in mente non so Frankenstein no quando quando va e sceglie il barattolo del cervello dove c'è sua abnormal trasferisce un cervello di un delinquente nel nel cervello del soggetto a cui sta cercando di cambiare il cervello quando sento dire delirante anche delirante semplicemente vuol dire delirium uscire dal lirio uscire dal trazzato seminato ma nel momento in cui il termine delirio viene usato normalmente per definire qualcosa che ha a che fare con la patologia mentale anzi con una patologia particolare che è quella della psicosi insomma no se uno usa la parola delirante per definire semplicemente una variabilità dal normale beh forse non ha capito bene insomma non sa bene usare i termini insomma uno usa dei termini che rispetta anche come dire il significato che determinati termini hanno assunto nel tempo no anche se etimologicamente possono possono sembrare così sinonimi no quindi insomma quando quando ti dice insomma che uno che hai un tono di voce aberrante rimani così no così diverso dalla normalità da essere aberrante cioè da essere un modo patologico di di dire insomma talmente patologico da provocare come dire come è patologico un delinquente nei confronti della società o come è patologico un mostro no aberrante quando non so quando un essere nasce con dieci mani otto dita un occhio solo insomma queste cose qua queste sono aberranze allora il mio tono di voce è talmente diverso da essere aberrante allora pensavo che questo qui magari non sa bene usare non sa bene usare il linguaggio insomma così gli ho risposto insomma che forse non conosce bene l'uso dei termini quando definisce aberrante un tono di voce che allora anche l'arte cosa è se non il tentativo sempre di trovare un modo originale di esprimersi quindi uscire dal modo tradizionale con cui ci si è espressi fino a quel momento insomma di trovare forme nuove di espressione forme nuove di linguaggio ogni innovazione l'arte non può prescindere dall'innovazione altrimenti si rimarrebbe sempre là quindi ogni innovazione insomma in realtà comincia con delle forme aberranti cioè con delle forme che modificano il modo precedente di dire per proporre delle forme di linguaggio nuovo no mi viene in mente Manzoni insomma quando fa la merda d'artista è aberrante si può definire aberrante una modalità di espressione una modalità di dire nel nostro caso un tono di voce insomma modalità di lettura insomma no quando questo poi è anche definito da un'intenzione insomma no magari chi lo definisce non non sempre capisce insomma no qual è qual è l'intenzione che si sta dietro anche alla scelta di un certo modo di dire di un certo modo di esprimersi no sono casi isolati insomma questo mi ha colpito perché ho usato una parola che che non avevo mai mai colto nei commenti insomma una parola aberrante e mi chiedevo appunto insomma se un insegnante che dà a un bambino che dice di un bambino un po' diverso dagli altri e dice ai genitori che il loro figlio è un essere avverrante insomma come la prenderebbero i genitori insomma no quando risulta da da discorsi che a volte faccio con gli insegnanti insomma no che anche nel momento in cui l'insegnante dice ma voi siete degli stupidini i ragazzini adesso insomma lo prendono come 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 un insulto e rischiano di di denunciare l'insegnante per averli offesi insomma quindi siamo in un ambito vabbè lascio a voi ma a parte l'aberranza delle delle mie letture del mio tono di voce rendo conto che invece alcuni altri invece mi dicono che come dire che si sono avvicinati all'audiolibro insomma si sono avvicinati all'ascolto di una lettura tramite anche invece la proposta che io ho fatto insomma che non pensavano che invece potevano prima non riuscivano insomma ad ascoltare un libro intero poi invece ascoltandolo letto da me sono riusciti ad ascoltare anche il libro o il racconto insomma e quindi voglio dire le voci si parezzano insomma il mondo è vario e d'altronde non può essere che vario il canale continua sono queste letture in corso poi ci sono altre cose che vorrei diciamo ripostare insomma ci sono altri libri che in un certo momento ho tolto e che possono essere invece ripostati e che riposterò con calma se la qualità audio migliora migliora per tutto quello che è avvenire insomma letture che sono ripostate avranno la qualità audio che avevano all'inizio io cerco un po' di migliorarle per quanto posso ma più di tanto una cosa che è stata registrata male non sarà possibile migliorarla quindi abbiate pazienza insomma l'ascolterete se volete e non l'ascolterete se volete nelle letture invece che verranno io spero di riuscire insomma ad ottenere una qualità perlomeno accettabile non sarà una qualità superiore ma spero che sia almeno accettabile insomma letture che sono state tolte che possono essere ripostate tra queste non so mi viene in mente i fratelli cervi che vi raccomando insomma che riposterò a breve integralmente su una lettura integrale i fratelli cervi nel senso il libro si intitola i miei sette figli ed è stato scritto da papà cervi insomma per questo ho l'autorizzazione dell'associazione insomma fratelli cervi per poterlo poi postare mettere in rete il canale continua la sua attività anche in maniera intensa cioè per me il limite è anche quello di postare perché mi accorgo che posto troppo ma mi accorgo che se non posto poi il materiale si accumula quindi devo trovare anche un compromesso a volte penso che postando cose diverse magari una cosa che non interessa una possa interessare all'altro però poi mi accorgo anche che postandole in maniera troppo postandone troppe queste cose man mano che passano vengono perse di vista e quindi sfuggono è come se passassero inosservate e quindi bisognerebbe anche lì trovare un un giusto equilibrio e un equilibrio che magari mi accorgo di non avere ancora trovato perché io sono un po' mi accorgo che sono un po' impulsivo perché faccio una cosa e magari vorrei questa cosa postarla subito insomma presentarla subito non tenerla lì perché poi quando la tengo lì faccio più fatica a usarla non so se riuscirò a trovare un compromesso voi sapete che ho dovuto togliere da youtube molto molto materiale diciamo quello anche più più recente che avevo libri più vicini a noi che ho dovuto rimuovere insomma dal dal canale questo l'ho già detto se qualcuno è interessato come succede qualche volta insomma che ogni tanto qualcuno mi scrive una mail sapeva che c'erano letture di Borges e non le trova più nel canale scrivetemi insomma queste letture io ovviamente le ho rimosse da youtube ma queste letture io continuo ad averle insomma no le ho fatte quindi nessuno può impedirmi di tenerle insomma non è che posso cancellarle dalla memoria e quindi se qualcuno è interessato a queste letture mi scriva pure insomma no mi faccia sapere cosa vorrebbe ascoltare insomma oppure mi chieda cosa è stato letto in passato e magari è stato tolto insomma no se c'è qualcosa che può interessarvi poi vedremo di trovare il modo per farglielo avere insomma a me interessa che ripeto a me interessa che le cose fatte siano siano usate insomma non sia buttate via è peccato no buttare via la fatica che si è fatta noi siamo siamo nati in un periodo in cui era peccato sprecare il pane insomma no è un peccato non usarlo quando è lì e potrebbe essere a disposizione questi sono i propositi vi ringrazio ovviamente vi ringrazio di tutto se volete suggerire qualcosa al canale ecco a me piaceva anche l'idea di fare delle interviste insomma no di intervistare anche scrittori anche persone che fanno qualcosa di particolare insomma di usare il canale anche per come dire per dare la possibilità a delle persone di raccontarsi io non sono così bravo come come il mio amico Riccardo Farina che apprezzo molto insomma che sa fare delle persone dei ritratti video notevoli di grande bellezza allora la cosa che forse potrebbe riuscire meglio è trovarsi e fare una chiacchierata insieme magari registrandola in modo tale che uno può raccontarsi può raccontare quello che fa insomma se fa qualcosa di interessante magari non trova altro spazio per raccontarlo e magari è utile che si sappia che quella persona fa o ha fatto quella cosa insomma e che quello che ha fatto poi sia conosciuto insomma no quindi sono a disposizione eventualmente anche per questo insomma se se qualcuno soprattutto nel campo della letteratura a proposito di letteratura insomma a me piacerebbe dare spazio anche più spazio alla poesia per esempio mi piace leggere poesia la cosa che osservo è che la poesia viene poco seguita in questo canale insomma passa via così senza senza che ci sia l'attenzione che secondo me merita ma forse la poesia ha bisogno anche di uno spazio mentale di un luogo per essere ascoltata insomma è più difficile ascoltarla in rete però a me piacerebbe leggere anche più poesia a volte non la leggo perché o mi limito o mi freno perché vedo che poi è poco seguita insomma non ha quell'attenzione che secondo me meriterebbe bene ho detto un po' di cose in maniera dispersiva ma insomma si trattava di fare il punto sull'attività del canale in questo momento in questo momento mi sembra comunque ripeto abbastanza buono insomma il canale si muove come ho cercato di descrivervi e spero che questo sia di vostro gradimento se non lo è fatemelo sapere datemi dei datemi dei suggerimenti io cerco di rispondere anche ai vostri commenti soprattutto quando fanno delle proposte insomma quando mi dicono sei bravo io che posso rispondere grazie insomma ma se mi dicono appunto sei aberrante cerco di dire guarda meglio insomma informati meglio sul significato della parola aberrante o almeno sull'uso che che se ne fa quello all'uso che attribuiamo ma quando mi si fanno delle proposte che possono essere in qualche modo seguite a cui si può dar seguito io cerco di dare seguito volentieri altronde è una cosa che faccio che mi fa piacere fare questa di leggere anche per voi è un modo secondo me di sentirsi utile ripeto non ho secondi fini ecco questo volevo anche dire insomma il canale non non è cresciuto così perché si è mosso perché ho pubblicizzato come dire ho promosso alcuni video ho fatto delle cose non ho fatto assolutamente niente non ho mai investito un quattrino sulla promozione del canale quello che è successo è successo tramite quello che è stato fatto quello che è stato visto quindi insomma diciamo c'è anche l'orgoglio da un certo punto di vista di sapere che tutto quello che è successo che è stato che è avvenuto insomma in questi anni anche questa crescita è stata una crescita che è avvenuta per una sua andamento naturale senza nessuna forzatura senza nessun intervento dall'esterno pagato o meno insomma senza nessuno sponsor senza che mai il canale si venda oppure sia lo strumento per altri interessi ecco quindi insomma tutto quello che è avvenuto è avvenuto semplicemente qui attraverso un lavoro insomma attraverso un lavoro che è un lavoro abbastanza costante ecco l'altra cosa e questo magari posso anche raccomandarlo insomma a chi apre un canale di youtube e magari vuole anche dedicarsi alla alla narrazione insomma a leggere c'è bisogno di una di una di una costanza ecco le cose funzionano quando si fanno tutti i giorni quando ogni giorno ti si dedica del tempo spesso anche molto tempo nella giornata e a questa costanza magari ci si aggiunge una una passione cioè l'interesse personale per quello che si legge cioè non si legge poi soltanto per gli altri anche per gli altri ma si legge anche per se stessi quindi la scelta poi dei testi che si leggono è anche una scelta che deve seguire le tue corde insomma deve entrare nelle tue corde e quindi ci devi mettere anche un po' di te in quello che leggi insomma si deve sentire l'effetto che quelle parole che tu leggi fanno su di te e quello che poi tu tu dici come leggi è anche la conseguenza dell'effetto che queste parole fanno su di te ecco detto questo vi saluto vi ringrazio e vi auguro una buona giornata arrivederci e vi auguro Grazie.